e ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo finalmente tornati dopo tanto tempo su sto gioco di me che forse ci sarà un motivo per cui non ce l'ho e ovviamente dobbiamo tornare a sclerare sulle bad wars come tanto tempo fa c'è tanto insomma qualche mese fa ho iniziato da pochi mesi a giocare mai a non giocare più a minecraft a giocare sulla clash real ball stars che mi si lascia però che succede allora tanto devo raccogli i miei materiali i miei due compagni si sono buggati fantastico ah no ma semplicemente è un problema ok lui difende va bene prenditi i materiali fammi il letto nel frattempo mi prendo un po di materiali quando ce li ho ci vediamo poca idea che inizio già con prendermi tipo dei blocchi allora adesso io sto diventando pian piano un nabino devo farmi magari tipo una spada in ferro che potrebbe servirmi quindi ancora altri due oro potrebbero servirmi nel frattempo devo ricordarmi più o meno come giocare vabbè allora l'obiettivo è spaccare i letti ma hanno già fatto loro il letto quindi non devo neanche pensare a farlo prendo la spada in ferro raga giuro non è tantissimo che non gioco più a minecraft ma sembra passata l'eternità io non sono più in grado di giocare a minecraft cioè si sono in grado però mi viene un problema allora direi quindi diamanti che se non mi ricordo male servono per fare gli upgrade poi quando c'è una bella piattaforma perché di qua ci devo fare la scala giusto non c'è nessuno mi dice che è giusto purtroppo posso soltanto affidarmi alle mie competenze ok qua sopra dovrebbe esserci tipo un fottio di diamanti infatti e torniamo in base che ci facciamo qualche aprendo tipo ironforge quelle cose lì minecraft è tutto un farm nonostante non la gente dicono non è vero non è tutto farmare si alla fine è tutto farmare cioè che palle rinforziamo l'armatura dai e poi metto qua tutto il resto l'armatura è inferro perché se no ce l'ho nel fondo schiena poi 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 devo mettere scalette perché se no su non ci salgo più i miei compagni ancora non riesco a vederli per con le impostazioni video sono ancora buggati lì dalla fornace anche se so benissimo che si stanno muovendo ma se fosse così anche per gli altri forse non sarebbe male non sarebbe male che così almeno li attaccano se c'è una voce strana stasera perché tipo c'ho male all'occhio quindi o mi metto a piangere in diretta oppure niente ho questa voce che fa pena ma sembra un bambino di due anni tipo quelli no sapete che giocano a fortnite e fanno i video su youtube gioco a fortnite e faccio la vittoria reale prendiamo ballarchetto che se sono ancora in grado di usarlo come prima allora andiamo forte il problema che devo essere in grado di usarlo come prima dammi l'altro diamante ti lascio il ferro e l'oro e diamantini li utilizziamo per farci ancora uno e mi faccio la sharpness quasi quasi faccio la sharpness quel punto lì mi sa che lo devo un po' migliorare perché sennò si andrà cacca cacca fino al collo prendiamo sharpness adesso pensiamo a farci uh siamo rimasti soltanto contro i rossi quindi i rossi penso che tipo se non sono dei cretini verranno o hanno già visto il mio nome e non vengono più perché sono troppo forti allora ancora non lo riesco a pigliare vero? no eeeh che cazzo è sto qua venì il flash il flash dei poveri è questo? ma come lo bacio? ma come li prendo i diamanti io adesso? no zio allora l'unico c'ho una c'ho un'unica apertura qua eh l'ho persa si è reso battibile soltanto adesso eh non c'ho più la stessa mira ad un tempo non ho ancora beccato neanche una volta eh zio mi sa che poi voglio andare tranquillo perché tanto qua non sto ancora facendo niente a meno che e questo ve lo ricordo che c'ha eh 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 ci sarà divertirsi zio? ti fidi che ci divertiamo? ho mancato pure la fireball ma sono un completo idiota fai incazzare che tempo due secondi e ti ho un'altra sveglia che ti spacco guardate che i miei compagni scusano andiamo a cazzeggiare io l'unico che ti prendeva ma ragazzi ho un po' di spirito di squadra cioè questo non è spirito di squadra questo è a cazzeggio time come sempre l'altra parte però quello là decide di venire oppure se ne sta di nuovo là che si ne sta lì nel senso adesso lo attacco poi eh cioè prendo tutti i diamantini e lo attacco oh ma i miei compagni dove sono? no lontano lontano stammi lontano zio vai via non hai diritto di avvicinarti a me sono rimasto da solo no ma stiamo scherzando eh raga adesso avrà sicuramente un rosso da dietro e mi attaccherò haha non fai più il furbo adesso che ti ho colpito eh si però in qualche modo devo riuscire anche a beccarlo no 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 chi è che mi sta colpendo? non ci credo dai raga però andate fin troppo bene come la prima Red Wars dopo tipo un sacco di tempo che non giocavo quindi prova a farne un'altra dai mi ha gasato adesso questa sarà più catastrofica sicuramente ok siamo in un 2 contro 2 eh 2 contro 2 non so chi sia nella squadra rossa ma non so neanche cioè io sono nei blu ok devo individuare innanzitutto dove sono i rossi lui nel frattempo parte già spavaldo al centro ma dove vai zio? che non stai manco in piedi a momenti vuoi partire verso il centro ma tu sei un babbo non so dove stanno i rossi e ho paura di scoprirlo infatti prendiamo l'endstone e copriamo il letto visto che sto qua è andato tranquillo spavaldo al centro devo rigiocare come ai vecchi tempi non posso giocare così alla cazzo di cane cioè prima quella di prima me la sono un po' giocata alla cazzo di cane diciamocelo c'è una che l'ho giocata da pro anche perché non sono più un pro di minecraft stavo quasi dimenticando come si giocava infatti avevo difficoltà a rimettere la visuale quella all'inizio del video ah questo ha preso uno smeraldo tutto sto casino per uno smeraldo ma tornatene a casa va che sta a giocare a minecraft se non sai più cioè se parti tutto gasato fai adesso dove va c'è una spada in legno ma questo è scemo è stato accorto frate che ti ammazzano giuro che questo mi fa salire una chiesa di nervi c'è una spada in legno non c'è armatura non c'è niente e va al centro invece che venire qua cioè potrebbe essere anche una tattica furba però il problema è che falla almeno quando c'hai tipo una protezione che se no se vengono i rossi si picchiano e in quel caso cosa devo farci c'è t'ha picchiato perché se è andato lì c'è perché praticamente ho fatto uccidetemi almeno difendi zio ok adesso arrivano anche i rossi arrivano e puntano al letto i rossi quello lì ovviamente si fa uccidere perché esatto c'ha la spadina in legno adesso questo qua io non lo lascio andare via vieni qua stronzo vieni qua bro beh non c'è il piccone se no gli andavo a spaccare il letto allora nel frattempo che il mio compagno è andato spavaldo cioè il mio compagno è troppo spavaldo è andato direttamente dal loro letto non so neanche se l'ha spaccato non credo che lo stia spaccando ah no infatti è stato ucciso tra l'altro quindi devo prepararmi anche la protezione no non devo cadere vabbè la protezione al letto l'ho fatta c'è anche il piccone sarebbe tipo straordinario allora zio mi spieghi cosa cosa stai prendendo dalla ceste che non c'è messo niente non c'è niente è nel cesto e nel frattempo quella ci sta spaccando il letto facciamo con calma ragazzi intanto ci stanno solo a spaccare il letto cazzo no sono caduto no non ci credo ha buttato giù sto infame sto pezzo di un cane vieni qua stronzetto vieni qua vieni qua vieni qua fatti perché non vieni paura eh paura vieni qua dai fatti sotto perché scappa questo raga ma scappa non ci credo sto qua scappa per poi far far cadere la gente dai ponti ma l'infame questo è uno di quelli che poi uccide soltanto con l'archetto che in momento non ce l'ho tra l'altro vabbè senti io vado a prendere altri diamantini tanto qua tanto qua bisognerebbe tipo mettere a posto il blocco prendiamo una bella piccozza anche in ferro va bene tanto iron sword vediamo quanto costa la piccozza successiva facciamo anche che ce la facciamo in iron che così è più sicura dai ci la facciamo in iron su ok prendiamo tutti i diamantini che stan qua torniamo in base che mi fa devo tornare in base che mi faccio un bel archetto con 5 diamanti io non so che la posso farmici forse tipo la prossima forge iron forge dai e facciamo anche it's a trap mine of fatigue it's a trap dai tacesti tipo la armature in diamante questo cosa sta facendo nella sua vita vorrei fregarmi eh ma non ce l'hai fatta al massimo sei solo riuscito a scappare perché è quello che fanno gli infami gli infami scappano invece quelli forti non scappano qua ci stanno bombardando da dove bro ma non mi devi far prendere sti infarti comunque adesso dobbiamo avvicinarci alla loro base e spaccargli il letto non ci abbiamo andato a scelta perciò adesso prendiamo gli ultimi diamantini rimasti c'ho gli ultimi diamantini che non avevo ancora preso pigliali ci mi ne servono 8 quindi faccio la sharpness alla spada e almeno posso posso partire all'attacco perché non c'è simbatico protection sharpness e tutti i cazze che c'ho mentre tu non c'hai niente vuol dire che sti veramente un hacker slow hacker che bontà un carchetto subito qua ovviamente perché se no mi frega come non voglio essere fregato non mi accompagno che fino a fatto non so tanto non so neanche se si è fatto il piccone prima di partire però come al solito cosa aveva non ci credo è caduto così a caso si è fatto ammazzare non ci posso credere no raga ma stiamo scher- però stanno distruggendo pian piano il letto quindi bisognava che che stia in difesa più che in attacco perché se no ci fanno giù ci rompono il letto non è al massimo no ma raga ma quello è stato fantastico stava cercando il team poverino cercava di teamare con me ma io non posso fare team ragazzi lo sai che è vietato nei pvp fare team fare team tra team tra squadre diverse mi dispiace bro l'avevi fatto anche però non si può se no ci cacciano dal server e poi soprattutto non c'è divertimento vattene via devi andartene bro vattene via vattene a fanculo vai via non hai capito niente via stava facendo un balletto vattene via tente in ogni modo di di fotterci la roba ma è incredibile cioè non ce la puoi far a fotterci il letto bro prendiamo l'armatura nuova no sei smeraldi mi servono vincchia me ne serve ancora uno intanto vi faccio la sharpness alla spada così sono sicuro che gli faccio un po' più male ah sei fatto l'arco sei fatto eh vieni qua stanzetto te l'arco e ce l'ho anch'io l'arco lo so usare molto meglio di te e torniamo in base pigliamo proprio in base adesso c'ho nove smeraldi con sei smeraldi mi faccio la protezione cioè l'armatura e quindi il resto non posso farci niente perché me ne manca ancora uno però facciamoci in compenso più frecce con tutto l'oro che ho preso ma sto schifo oh mi ha lasciato lo smeraldino gentilissimo va bene allora io so che ti dico stando attento e correndo il più possibile perché sennò mi pigliano con l'arco me ne torno in base ah ma hanno ucciso il compagno oppure ha liftato non lo so fatto sta che comunque non c'è più allora io mi devo potenziare quindi sicuramente la spada in diamante è un po' più forte della spada in iron c'ho protection ho l'arco piglio anzi sapete che vi dico faccio l'arco potenziato esatto mi colavo che costasse 24 prendiamo l'arco potenziato adesso anche se finisco camperato nell'isola dei diamanti non mi importa perché sono tipo però a meno che non vieni qua non mi puoi prendere quindi ce l'ho pieno di frecce ce l'ho stack e stack di frecce quindi anche se continua a farmele perdere ce l'ho pieno sono allontanato abbastanza per dire che vado nella mia base a picchiarlo ok è morto farmi un po' più gli stacchi di frecce perché sennò stai qua mi vengono a rompere le palle lo sfido la sorte e vado a picchiarli tutti non è vero poi è da questa partita ma l'ho persa con onore visto che ho fatto un botto di kill devo picchiare che cazzo fanno oh no non hai capito un cazzo sparisci mongolo questo qua mi vuole picchiare io ce l'ho fatta che palle vabbè sentite ragazzi me la son giocata bene vi direi che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un commento mi piace ditemi qua sotto nei commenti se volete la serie di minecraft ma ditelo che palle che ogni volta nei commenti mi scrivete grande bravo grandissimo non me ne frega un cazzo mi frega sapere se il video vi è piaciuto mi frega sapere se volete la serie se volete che vado avanti se io vi chiedo nel video volete che vado avanti in una serie mi scrivete grande cazzo me ne frega cioè grazie finisce lì invece se volete che continui la serie me lo dovete dire nei commenti però ditemelo raga mi raccomando sono confido in voi vi saluto come al solito se siete nuovi iscrivetevi se non siete nuovi andate nei social in descrizione e iscrivetevi a seguitemi su instagram entrate nel nel gruppo nel canale telegram che ogni volta ci saranno gli aggiornamenti lo dico in ogni video e niente io vi saluto ciao a tutti